Gentili telespettatori, buona giornata. Debito in calo, prezzi in lenta flessione e i mutui calano. Calano i mutui, c'è un'inversione di tendenza, si abbassano le rate dei mutui. A gennaio cala di 14 miliardi, l'inflazione cala il debito, l'inflazione è giù dello 0,8%. Dati economici positivi e la sinistra, livorosa e rancorosa, muta. I numeri sono numeri, anche se nei programmi televisivi fiancheggiatori della sinistra, che io guardo, sempre, deridono questi dati. Ridono sarcastici, fanno le facce, tutte delle facce un po'... Ho visto proprio delle cose terribili, no? Ridono dietro i dati, facendo le risatine di scherno, come dire... Che ignoranti, no? Vanno in giro a raccontare che l'economia va bene, ma va tutto male. Ecco, i programmi fiancheggiatori della sinistra, programmi televisivi, raccontano che fa tutto schifo. Tutto estremamente schifo. E invece, la gran parte va bene. Ho capito, non abbiamo ancora il salario minimo, ma credo che la Meloni ci arriverà molto velocemente. Vedrete, lo chiamerà in un altro modo e lo farà. Come l'ha fatto per il reddito di cittadinanza. Gli ha cambiato il nome, l'ha tenuto per una parte delle persone, l'ha cancellato ad altre, ma il reddito di cittadinanza c'è. Vedrete che arriverà anche il salario minimo, ne sono assolutamente convinto. Adesso sta sistemando l'immigrazione clandestina in modo incredibile, perché non so come cavolo abbia fatto, o come stia facendo, però il risultato c'è. Adesso i dati economici sono... La gran parte sono positivi, molto positivi. C'è lo spread arrivato ieri a 116, poi è tornato su a 127, ma ha toccato 116. E lo spread, che è la differenza tra i titoli di Stato italiani e i bond tedeschi, è ai minimi da tre anni. Tre anni. E stiamo pagando molti meno interessi sul debito, perché lo spread più è alto, più paghiamo gli interessi. Gli interessi sono alla metà di quando c'era Draghi. La metà. Stiamo pagando metà degli interessi. E guardate che sono tanti, eh. Sono decine di miliardi. Decine di miliardi. I dati macroeconomici italiani continuano a confermare che essere pessimisti è completamente la strada sbagliata. Certo, c'è in vigore il nuovo patto di stabilità che bisognerà tirar fuori un bel po' di soldi per il prossimo anno. Ma a gennaio il debito pubblico è stato pari a... Insomma, ve lo dico? Tenetevi forte, il debito pubblico è 2.848,7 miliardi. 2.848,7 miliardi. Ma è sceso di 14,1 miliardi rispetto al mese precedente. Le entrate tributarie a gennaio sono state pari a 46,5 miliardi, in aumento del 5,1%. Ci sono 2,3 miliardi in più su base annua. Entrate tributarie, quindi stanno entrando più soldi dalle tasse, contributi, eccetera, eccetera. Il sistema sta tenendo. Questi primi dati del 2024, dei primi mesi, sono assolutamente incoraggianti. Poi, su base annua, le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1% in valore, ma in volume sono diminuite del 2,1%, rileva l'Istat. Quindi le cose costano di più e la gente ne compra di meno. Con questo, dei dati economici positivi, non vuol dire che non esistano più le famiglie in difficoltà, le persone povere, i disoccupati. Perché io sono disoccupato. Sì, ho capito, ma non è che se tu sei disoccupato vuol dire che l'Italia va male. Tu domani puoi trovare un lavoro che ti pagano 10.000 euro al mese e dici l'Italia va benissimo. Quindi non è che guardando la singola persona si può dire se l'Italia va male o no. Uno dice, ma io ho perso il lavoro, quindi l'Italia non sta andando male. Tu hai perso il lavoro. Ma questo non vuol dire che l'Italia stia andando male. Ecco, quindi c'è sempre quello che perde il lavoro, c'è sempre quello che guadagna poco, c'è sempre quello che non arriva a fine mese, c'è sempre quello che non ha la casa di proprietà e paga l'affitto e non ce la fa arrivare a fine mese. Se uno è in difficoltà non vuol dire che il Paese non stia andando bene. A te sta andando male, ma il Paese in generale sta migliorando i suoi dati economici. Su base mensile poi le vendite alimentari sono rimaste invariate in valore, con una diminuzione dello 0,4% in volume, mentre quelle dei beni non alimentari hanno subito una lieve flessione, meno 0,1%. Poi ci sono tanti dati Istat su tante cose, ma l'indice dei prezzi al consumo a febbraio, secondo i dati definitivi, Istat ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua, come il mese precedente. L'inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi decelera da più 2,7% a più 2,3%. Quindi abbiamo un'inflazione al 2,3% è ritornata fortemente indietro. Ma non è che i prezzi stanno diminuendo, attenzione, stanno crescendo come crescevano prima del disastro, del covid, eccetera, eccetera, delle guerre. Ecco, quindi i prezzi non tornano indietro, solo il loro continuo aumento diminuisce e si attesta oggi al 2,3%. Ovviamente anche gli stipendi sarebbero dovuti crescere così tanto come l'inflazione, ma non è successo per tutti. La gran parte degli stipendi addirittura hanno perso potere d'acquisto in Italia. Cioè oggi le famiglie sono più povere di qualche anno fa, hanno meno soldi a disposizione. Però i dati economici sono tutti positivi, come vi dicevo, e piano piano dovrebbero trascinare all'insù le retribuzioni, ma se così non dovesse accadere bisogna intervenire immediatamente con un salario minimo per legge. Si mette punto e a capo e ogni anno questo salario minimo deve essere rivisto con l'inflazione per tutti i lavori italiani. l'inflazione si chiude al 2,3% il salario minimo il prossimo anno deve salire del 2,3%. Si impenna l'inflazione al 10% il salario minimo deve crescere del 10% in maniera automatica per tutti, non come le pensioni che dopo una certa cifra cresci di meno, no, per tutti. Ma al salario minimo ci arriveremo presto, vedrete che avrò ragione anche su questo. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.